Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Vittorio, tanti auguri a te. Auguri, grazie, non sono molti, sono solo 95. I primi sono i primi 95 che ho fatto. Per lì c'è quel moderno con le chiavi tutte moderne, il mio non era vecchio, eh, 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 ma io partito di 50 anni fa, eh. Allora, signori, i Big Bob suoneranno per voi, amici miei, va bene, amici miei, amici miei, amici miei. Yeah. Ah, pro maggi, amici miei, amici miei, amici miei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.